Ormai dovrei essere addestrato a dovere, la caccia alla faraona e alla pernice non ha più segreti per me Ma che è tutto sto frastuono, signor finestre può fermarsi un secondo che non capisco niente Non posso, dannato sergente, ti mostro io chi è il vero cacciatore di pernici Signor finestre la smette di sparare ai vetri che fa un baccano allucinante Mi manca poco Ma Franklin quando è che torneremo ad averlo? Non che lo voglia però Non ne ho idea, ancora due colpi e ho finito Ah meno male, ok, cominciamo sto video che è meglio Comunque, bella ragazzi sono Flayne, bentornati, siamo qui oggi su GTA 5 perché? Cosa numero uno, signor finestre perché don Pagnotta a cosa? Numero due, noi quest'oggi dovremmo andare alla ricerca del povero Franklin Che è stato appunto rapito da un mostro che incula la gente in pratica Don Pagnotta, anche tu quindi mi confermi che l'unica opzione è andare da quell'uomo Sei sempre molto saggio Se non ha detto nulla, santo Dio Vabbè lasciamo perdere ragazzi, prima di cominciare invito subito a lasciarmi un bel pollicione in su Cerchiamo di arrivare, potremmo fare quest'oggi Non ne ho la più palida idea Tanti mi piace, quanto è probabile che Franklin abbia già Lascio intendere insomma, è qualcosa che riguarda il culo Quindi non dico altro E potreste commentarmi qua sotto con scritto il carro armato Che è quello che sta guidando insomma, una sorta di carro armato Che sta guidando il signor finestre Ma signor finestre mi spieghi un attimo come è il piano Lei si deve ricare da quest'uomo che in pratica sa tutto Come fa se per tutto Lui sa ogni cosa, però c'è un problema Da me non si farà certo vedere Come non si farà vedere, per quale motivo è un delinquente Essendo un militare non si vuole far vedere Vai piano signor finestre, vada piano Che tra l'altro mi sembra guidi dieci volte meglio di Franklin Ok, Franklin guida sotto effetto di stupefacente ogni volta, però Mi devo recare da swag bail poeta Solo lui può dirci come riavere Frank Ma santo Dio, ma è proprio necessario Buongiorno buon uomo Oh se non c'è altra soluzione andiamo da sto qua Ma lui non si mostrava solo ai tossici Infatti mi serve un tossico E quindi ti stai recando in qualche ghetto sporco per trovare un drogato Per riuscire a far apparire il poeta fattone Insomma, ma sei sicuro di riuscire a trovarlo? Assolutamente sì Ho intenzione di partire per un'isola dei Caraidi Per incontrare Jack Sparrow Assolutamente no, cambia personaggio È vero che non posso cambiarlo con lui Porca miseria no, signor Coso, signor Finestre Per favore, perché Jack Sparrow? Ma con tutti i tossici, non so Carlo Giovanni non è un tossico lui No, il signor Carlo non è un tossico Vabbè o ci manca poco, non lo so Qualsiasi altra persona, denti di legno Non è un tossico più o meno No, e anche lui un militare Non funzionerebbe Ma santo Dio Cioè, la vita di Franklin in pratica immana Jack Sparrow Per dirla tutta Ma tu sei sicuro che verrà conto? Perché secondo me ti pianterà un secco no Cioè, oppure ti sparerà anche Nel caso dovesse dirmi di no sarebbe un problema Potrei corromperlo con una pizza Ma Jack Sparrow secondo me si compra meglio con l'oro Ma va bene lo stesso Allora, manca poco all'aeroporto Andrà a finire male, io lo so Ma quest'isola dove si trova? È un isolotto caraibico non lontano dalle coste di Cuba Ok, ho capito Ma in un resort, non lo so C'ha una casa vacanza No, ha comprato l'isola E ha cacciato i nativi a colpi di fucile Adesso vive in una casa in mezzo al bosco Abbastanza difficile da trovare E va bene Allora andiamo ai Caraibi a prendere Jack Sparrow Ma vabbè A sto punto io mi stavo chiedendo una cosa Non sarebbe meglio lasciare Franklin dov'è E fare altro Non avrebbe voglia di andare a sparare alle pernici Come diceva prima Sarebbe molto più interessante E forse anche molto più divertente Che andare ai Caraibi a cercare Jack Sparrow Ma la strada la sa Ho messo il navigatore Il pilota automatico E ora mi faccio una bella dormita Va bene Allora pietare signor finestre Buonanotte Non si schianti mi raccomando Porco Mi sono addormentato con la pizza in bocca E stavo per soffocare Signor finestre Lei è un po' imbecille Comunque siamo arrivati all'isola Ma io non vedo alcuna casa Sarà molto difficile trovarla Non ti converrebbe sorvolare l'isola Dopodiché Individuare la zona della casa E arrivarci Perché se veramente Girare in mezzo a ste piante Si diventa scemi Se c'è Jack Non hai il volo autorizzato Ti abbatte con i missili Ora prendo il quad Vabbè una persona simpatica Jack Sparrow Complimenti Niente da dire Prenda il quad Va là Ho trovato solo questa moto Ma va bene Ugualmente Mi raccomando signor finestre Non si uccida ma domanda Jack Sparrow È sicuro che sia qua Cioè noi lo troveremo quest'oggi Oppure Giraremo così a caso Troveremo la casa Magari vuota No Qualche giorno fa Aveva detto che veniva su quest'isola Poi non ne ho idea Vabbè se tacciamo l'isola Ma Un altro tossico Non c'era nella lista Non lo so Qualsiasi altro drogato Il pusher Arturo Che vuole tanto uccidere Franklin Non poteva Ah no è vero Quello vuole uccidere Franklin Cosa lo chiamiamo a fare Io devo essere sincero Se devo scegliere Se avere come Jack Sparrow O lasciare che Franklin Si svergini dietro Sinceramente Opterai per la seconda Ok Franklin Non sarebbe molto d'accordo Però Non romperti la testa Contro i rovi Ok Stavo dicendo Non potremmo lasciar perdere Tanto Franklin Ce lo ridaranno il mostro Cioè non penso che se lo Insomma sbatta tutto il giorno No Il mostro uccide le sue vittime A suon di inculate Ah che bella cosa Proprio interessantissima E molto divertente Non so Sto viotto lo porta da qualche parte Ma io solamente non vedo niente Non c'è neanche traccia di Non lo so Il fumo di un camino Ok che accendere un camino Qua in un'isola Caraibica è abbastanza strana Come cosa C'è del fumo però qua Ma attenzione c'è qualcosa Cos'è? C'è un elicottero Perché c'è un elicottero? Te l'ho detto che Chi non ha l'autorizzazione Viene abbattuto Questo deve essere stato colpito Questa mattina Poveraccio Sono adoro Vabbè invitiamo i commenti E cerchiamo sta casa Ma sei sicuro che abiti proprio qua Che non abiti Non lo so Magari nella costa di fianco Da quello che so Abita qui Ho capito ma qua ci sono solo piante Dove abita sugli alberi come i macachi Signor finestre Non si incastri nei rovi Cosa diavolo sta facendo Per favore Dimostri un briciolo di intelligenza Superior a Franklin Non è che ci voglia così tanto eh Però tiri fuori la moto per favore Qua sopra non ci sono ancora andato Quindi forse potrebbe esserci qualcosa Anche perché la zona Fondo la lo giarda tutta Quella la sinistra la guarda tutta Qua in fondo Ci sono dei cespugli Magari dentro un cespuglio No Non c'è un tubo Qua c'è una palma storta Qua c'è C'è una luce ok C'è una casa perfetto Ok entriamo dentro Ho detto ok 30 volte Ma signor finestre Parcheggi un attimo la moto qua E vada dentro a cercare Quell'imbecille di Jack Sparrow Io spero accetti Perché se mi son fatto sto viaggio per niente Spero abbia qualcosa nel frigo Perché ho fame Signor finestre per favore Allora Ma ne Cioè Jack Sparrow Ne è che se ci vede ci spara Cioè io spero comunque sia Un briciolo di Cioè insomma avevo un briciolo di cortesia Per le persone che gli entrano in casa Soprattutto se non sono ladri Non lo so Io so che una volta Era entrato il postino E lui gli ha sparato Ma che spettacolo di persona Comunque Signor Jack Sparrow è qui in casa Perché c'è una famiglia Sapevo di questa cosa Jack lascia a questa famiglia L'usufrutto della casa In cambio di denaro E rapporti carnali Da parte della moglie Ah ok ho capito Molto interessante Un secondo Ci sono Tre mignotte Un attimo Signora potrebbe vestirsi per favore Signor finestre Vada avanti piano La censura Ecco bravo Così censura tutto Potrebbe vestirsi per favore Devono essere le baldrache Di lusso di Jack Rimanga così Nessun disturbo Signor finestre per favore Che poi mi bloccano il video Solo un attimo Che ne approfitto Non ho fatto Tutta questa strada Per nulla Ma per carità Si tiri su Madonna santissima Io non ce la posso fare Signor finestre Per favore Ciao Franklin Che stupido Si ci si mette anche lei È un casino Per favore Voi due potete staccarlo Da lì per carità Mi viene voglia Di sbattere la testa Contro il muro Veramente Signor finestre Per favore Vabbè La prossima volta Attenta con i denti però Signor finestre Adesso io non dico niente Perché le pianterei La testata Comunque Hai avuto le informazioni Che ti servivano Si È dilatata come una mucca Che deve partorire Ma non quelle deficiente Nel senso Dov'è Jack Sparrow Perché qua in cima Non c'è Non c'è in tutta la casa È andato Non lo so A cacciare o sparare Qualcuno in giro Mi ha detto la zoccola Che è andato 20 minuti fa a Cuba Per una gara di bevute Eh se vabbè Quello porca vacca Se si ubriaca Non torna più Lasciamo perdere Grazie signore valdrac Che non so C'è Vabbè Evitiamo di parlare Ulteriormente di queste Andiamo di sotto Buon uomo Mi dispiace Mi dispiace Lei con tutte le cose belle Che potete trovare nella vita Alla casa di Jack Sparrow Ok Allora signor finestre A sto punto come facciamo A trovare il fattone poeta Scusami Proviamo ad andare E vediamo cosa succede Poi tra l'altro una cosa Signor finestre Perché ci han fottuto il jet Qui funziona così Chi trova Prende Ok va bene signor finestre Io spero lei sape guidare sto coso No non lo sa guidare Lei è un deficiente Può uscire di qua per favore Quanto manca lo sento Sono praticamente arrivato Ah meno male Comunque dicevo Non puoi recarti un attimo nel ghetto Non so Puoi andare a Grove Street Rapire un drogato Rapire qualcuno E portarlo dal coso Se sono portati con la forza Non appare Sì vabbè io ci rinuncio l'ora Proviamo ad andarci Ma non potresti andare dal Porcaro Se no Anche lui è un mistico Quindi dovrebbe saperle anche lui ste cose Anzi forse meglio di no Perché se andiamo a chiedere a quello Puoi sfruttare la cosa Per arrivare a Franklin E rompergli la testa Quindi non sarebbe una cosa Molto molto buona Signor poliziotto È un suo collega anche back finestre Quindi non rompa le palle Vada via ecco E cerchiamo di andare dal Fatone Poeta Nel caso comunque non apparisse Il Fatone Poeta Dovremmo andare Per forza Madonna santa che incidente schivato Dovremmo andare per forza dal Porcaro E lì sarebbe un casino Sarebbe decisamente molto problematica come cosa Comunque Siamo vicini Perché sotto dal ponte qua a sinistra Mi sembra Assolutamente sì Signor finestre mi raccomando Se no potresti assoldare uno di questi tossici Buongiorno signor Barbone Tossico può venire con me un attimo Ormai è troppo tardi Non lo so Magari il Porcaro potresti convincerelo in qualche modo Potresti Diavolo È quella vecchia volpe di Don Pagnotta Signor finestre io Don Pagnotta Non glielo neanche detto Perché sapevo che non si sarebbe mosso di un passo Ma Com'è arrivato qua in fondo Della tua legge Io me ne infischio Sei davvero pronto A correre il rischio Vorrei stare Da mattina a sera Sul lungomare A farmi qualche pera Signor Coso Drogato Può dirci un attimo Come possiamo trovare Franklin Senza stare a fare ste poesie inutili Per favore Colui che voi cercate È un uomo assai coglione E concludo questa frase Con non mi piace Il minestrone E i suoi gusti culinari non me ne frega niente Potrebbe dirmi dove è Franklin In sintesi O cosa devo fare per trovarlo Stai cercando Un uomo stolto Che è tra le mani Di un uomo senza volto Ah quindi il mostro che ha rapito Franklin Non ha la faccia Potrà mostrarsi solo In presenza di un bambino Trovane uno degno E alla soluzione Sarai vicino Mi scusi un secondo Ci devo andare con un bambino A cercare un mostro Ma Il bambino Dovrà essere speciale O allo stolto Toccherà l'anale Allora ricapitolando Noi dobbiamo trovare Franklin Che è stato rapito Da un mostro senza volto E può essere visto solo da un bambino E basta Patrick è il nome del bambino Ti aiuterò a evocarlo Ma ora vattene Che mi aspetta un bel pom... Vabbè facciamo così signor Swigbe Io non lascio le sue cose Ci vediamo tra qualche giorno E facciamo il tutto Per il momento va bene così Per il momento va bene così Per il momento va bene così